Ciao a tutti ragazzi, torniamo con le guide all'acquisto e come avrete visto sicuramente oggi parliamo di ciaspole vedremo le varie funzioni, i vari materiali con i quali sono fatti, le varie parti, cosa presenta il mercato ma soprattutto alla fine vi darò qualche consiglio per gli acquisti, perciò bando alle ciance e iniziamo subito il video direi di iniziare spiegando a cosa servono le ciaspole le ciaspole ci servono per camminare sulla neve fresca dove senza di queste andremo ad affondare ma come fanno a permetterci di camminare sopra la neve fresca? banalmente andando ad ampliare la superficie di contatto tra il nostro piede e il terreno il nostro preso sarà distribuito su una superficie maggiore questo proprio come funziona per gli sci da sci alpinismo per esempio andrà semplicemente a distribuire meglio il nostro preso su una superficie più grande e quindi ci sarà meno possibilità di sprofondare il primo aspetto di cui iniziamo a parlare delle varie ciaspole sono i materiali con i quali sono fatte allora qui potete vedere che abbiamo delle ciaspole fatte tutte in plastica comunque materiali plastici esistono anche le ciaspole fatte in alluminio la differenza numero uno qual è? quelle in materiale plastico sono più leggere ma tendono a rovinarsi molto prima tendono anche nel caso a rompersi anche prima quelle invece fatte con materiali tipo alluminio sono molto più durature sicuramente però tendono a pesare un pochino di più quindi abbiamo il pro e il contro di entrambe comunque tenete conto che quelle in materiale plastico si si rovinano nel senso che si graffiano ma per romperle veramente ce ne vuole cioè non è che sono così fragili il secondo aspetto molto importante da andare ad analizzare è la forma della ciaspola come potete vedere qui abbiamo due ciaspole che hanno due forme decisamente diverse questa qua ha una forma molto più allungata e anche passatevi il termine panciuta questa qua invece è molto più stretta e soprattutto va ad avere una pancia che chiude all'interno diciamo a metà della ciaspola perché questo? questa ciaspola avendo una forma più grossa ci garantisce una galleggiabilità migliore però allo stesso tempo è un pochino più difficile da portare soprattutto quando camminiamo dovremo tenere le gambe un pochino più aperte in una posizione non tanto naturale alla quale però pian piano ci si può abituare senza tanti problemi questo modello invece avendo una superficie minore tenderà un pochino più a sprofondare rispetto a quest'altra però proprio perché è una superficie minore soprattutto all'intaglio a metà ci permette di poter avere una camminata molto più normale cioè quindi di poter camminare come siamo abituati senza dover tenere le gambe divaricate tutto ciò si traduce in un minor dispendio energetico probabilmente per questo tipo di ciaspola perché essendo più grossa galleggia di più e quindi dovremo usare meno energie per andare avanti ma allo stesso modo quest'altra ci darà un minor fastidio alla lunga perché non dovremo camminare con le gambe divaricate ecco, stanno a decidere quale tipo di ciaspola ci interessa di più terzo parametro da considerare come vedete ho girato le ciaspole è la ramponatura inferiore iniziando dal rampone che troviamo sotto la punta del nostro piede qui diciamo che non esiste una grande differenza nel senso non esistono dei modelli diversi esistono dei ramponi più o meno efficaci primo caso troviamo un rampone con due singole punte veramente molto basic non dà nulla di eccezionale svolge il suo lavoro tranquillamente ma nulla di eccezionale secondo caso possiamo trovare già un rampone a tre punte magari con delle punte un pochino più affilate un pochino più aguzze quindi già perforare meglio nei punti in cui dovessimo trovare della neve un po' ghiacciatina terzo caso un rampone sempre a tre punte ma con una certa struttura con uno studio dietro un rampone che anche se dovessimo trovare del ghiaccio magari un pochino cattivo potrebbe permetterci di avanzare senza tanti problemi quindi supponendo che il rampone devono averle tutte quindi se trovate delle ciaspole che non ha un rampone sotto non prendetele assolutamente ci sono delle ciaspole magari più entry level con un rampone più semplice e ciaspole top con un rampone decisamente più strutturato sempre parlando di ramponatura inferiore passiamo alla ramponatura che troviamo su tutta la lunghezza della ciaspola possiamo trovare una ramponatura molto molto basic come può essere questa che è composta semplicemente da sei punzoni e niente di più ma proprio anche punzoni singoli proprio molto semplici che già svolgono un buon lavoro però come dicevo semplici in quest'altro caso abbiamo otto punzoni messi sempre in linea però hanno già una struttura diversa hanno un doppio artiglio sono più grossi quindi già ci danno una stabilità migliore e poi le migliori ciaspole hanno di solito non più una ponzonatura ma magari troviamo una ramponatura a tutta lunghezza che di solito corre da dove andrebbe la punta nel nostro piede fino alla fine della ciaspola magari anche su due binari che capite che abbiamo una ramponatura decisamente più forte decisamente più aggressiva oppure anche come in questo caso possiamo trovare sia la ramponatura a tutta lunghezza che anche i singoli spuntoni in questo caso ne abbiamo sei che vanno ad aumentare ancora di più il grip quindi anche qua se trovate delle ciaspole che non hanno ramponatura non prendetele in base al prezzo che decidiamo di spendere possiamo trovare una ramponatura più semplice media o decisamente più evoluta vi ho rigirato le ciaspole perché torniamo ad analizzare la parte superiore iniziando dal attacco frontale così lo chiamo o meglio dire dove andiamo a serrare il piede sulla punta allora qui abbiamo dei sistemi molto simili tra loro perché diciamo sono i più comuni i più utilizzati però da questo punto di vista i produttori si sono veramente sbizzarriti possiamo trovare un semplice allaccio fatto da un cordino da andare a tirare possiamo trovare un allaccio un pochino più strutturato magari con già un cricchetto che ci può permettere di non dover andare a tirare ogni volta il singolo laccetto ci sono ciaspole che hanno iniziato a utilizzare un sistema come il boa ci sono ciaspole che utilizzano davvero tanti tanti sistemi in questo punto i singoli strumenti utilizzati sono da analizzare caso per caso quindi vi consiglio di guardare le recensioni però diciamo che avere sicuramente una struttura anteriore dove poter serrare il piede sulla punta è sempre un'ottima cosa passando poi alla struttura invece posteriore anche qua i produttori si sono sbizzarriti possiamo trovare anche qua strutture come il boa ma quella che vi consiglio di più è una struttura fatta a cricchetto tipo quelli da snowboard e anche qua c'è una differenza ci sono quelli che hanno un singolo cricchetto tipo questa parte qua che ha un singolo cricchetto sulla sinistra e quelli che hanno due cricchetti quindi con doppia possibilità di regolazione non cambia nulla nel senso funzionano bene entrambe l'unica cosa che cambia è che alla lunga quelle singole sono un pochino più noiose perché bisogna tirarle tanto non ricordano la posizione quindi sono un pochino più noiose da utilizzare mentre quelle con una doppia struttura con un cricchetto a destra un cricchetto a sinistra possiamo regolare un singolo cricchetto e poi andare sempre a muovere l'altro ed è più semplice andare ad allacciarle anche più veloce altro punto da analizzare questo veramente molto importante è la struttura dove noi andiamo a riporre il piede in queste ciaspole come potete vedere abbiamo tutta una struttura dove il piede va a incassarsi dentro noi abbiamo la nostra chiusura anteriore e posteriore e abbiamo tutta la ciaspola che fa il movimento su e giù questo vuol dire basculante ecco da quello che vi consiglio di prendere ci sono altre ciaspole che non hanno tutto questo sistema sono molto più basic di solito i produttori li fanno così perché tendono a pesare meno ma non abbiamo tutta questa struttura quindi il nostro piede farà sì su e giù ma non abbiamo tutta la struttura della ciaspola sotto che ci aiuta quelle ve le sconsiglio perché molte volte si vanno a creare zoccoli sotto la nostra suola quindi tendono a dar fastidio alcune volte abbiamo anche un tipo di alzatacco diverso che va a dar fastidio ma questo lo vediamo dopo non sono fatti molte volte anche per poter fare dei traversi quindi tende a scivolarci di lato il piede proprio perché non abbiamo una struttura della ciaspola che ci lo tiene fermo quindi il mio consiglio è quello di prendere sempre una ciaspola con una struttura basculante abbastanza rigida dove il piede lo serriamo dentro e gli rimane visto che ve ne parlavo il punto successivo che andiamo ad analizzare è l'alzatacco qui ne troviamo di tre tipi allora troviamo un alzatacco che si alza sopra il quale noi andiamo ad appoggiare il nostro piede e solamente un pezzettino di ferro e sinceramente quelli ve li sconsiglio perché io mi sono trovato sempre abbastanza male non che non funzionino però secondo me è una funzionalità decisamente limitata con sempre il problema che si può formare uno zoccoli di neve sotto il nostro piede vi consiglio di prendere una ciaspola con un alzatacco decisamente più strutturato come possono essere esempio questa qua alla mia sinistra che ha un alzatacco molto comunque semplice però legato alla ciaspola quindi noi ogni volta che andremo ad alzare e abbassare il nostro piede andremo a sbattere e a far sbattere la ciaspola sull'alzatacco il che non è un problema naturalmente se no esistono anche alzatacchi tipo quest'altra ciaspola dove questo è posizionato sotto il tallone della nostra ciaspola quindi nel momento in cui andiamo ad alzare il piede si alzerà anche l'alzatacco personalmente questa struttura non l'ho trovata così tanto efficace perché tende sicuramente a fare anche un pochino più casino però nel complesso si può formare zoccoli di neve non mi è piaciuta vi consiglio di più prendere alzatacchi che siano direttamente collegati con la ciaspola e che non vadano a basculare l'ultimo aspetto che andiamo ad analizzare è il blocco del tallone cos'è? non è altro che un piccolissimo pezzettino che si va a sollevare ma che ci evita che la ciaspola vada a basculare questo ci può servire in tanti casi probabilmente nel trasportare la ciaspola è una piccola chicca che in ormai in tantissimi utilizzano però vi assicuro essere davvero molto efficaci quindi se ne trovate una con il blocco anche della basculazione sul tacco diciamo che io ve la consiglio piuttosto che una ciaspola come quest'altra dove se noi dovessimo andare a trasportarla comunque continuerebbe a basculare non potremmo bloccarla esiste anche un modello di ciaspola molto particolare di solito abbastanza venduto su Amazon che sono delle ciaspole tipo queste qua come potete vedere non hanno alzatacco hanno una chiusura abbastanza semplice non hanno praticamente quasi nulla però hanno una superficie decisamente grossa queste ciaspole io le ho utilizzate per diverso tempo sbagliando e sono buone sono abbastanza buone soprattutto per quanto riguarda la galleggiabilità però non vanno bene dalle nostre parti queste ciaspole qua vanno bene mi vengono in mente paesi tipo la Norvegia il Canada dove magari per coprire 3 km in piano hanno 3 metri di neve fresca quindi hanno bisogno di tanta galleggiabilità però vanno in piano non hanno sentieri magari difficili punti con dei diagonali quindi molto molto semplici diciamo che se dovesse andare da quelle parti dovesse fare delle escursioni in piano queste sono perfette da noi non vanno bene da noi meglio prendere una ciaspole decisamente più strutturata con un rampone con un alzatacco con la basculazione del piede e via dicendo quindi queste qua sono buone ma non vanno bene per le nostre alpi barra pennini per quanto riguarda le taglie allora innanzitutto le ciaspole sono unisex non c'è modello uomo o donna normalmente vengono divise però in taglie in base al peso e qua c'è da fare una grossa precisazione perché col peso non intendo il peso corporeo di una persona o meglio è un insieme di pesi prendiamo il mio esempio riccardo pesa 70 kg ok non vado a prendere una ciaspola per una persona che pesa 70 kg 70 kg di riccardo ci aggiungo 3 kg per esempio di abbigliamento che ho addosso più 7 kg di zaino totale 80 kg quindi quando andrò a comprare una ciaspola dovrò prendere una ciaspola per una persona che pesa 80 kg non per i 70 del mio singolo peso corporeo e altra piccola precisazione che tengo a fare faccio un esempio se la taglia M di un produttore arriva fino agli 80 kg la taglia L parte dagli 80 kg in poi naturalmente se ne pesiamo 80 potremmo pensare prendiamo la M o prendiamo la L il mio consiglio se siete al limite tra due taglie prendete la taglia successiva perché vi garantirà una galleggiabilità migliore per quanto riguarda invece il numero del piede che noi abbiamo le ciaspole sono universali anche qua nel senso che di solito c'è la parte posteriore del tallone che tramite un sistema che poi ogni produttore ha il suo questo scorre avanti e indietro su una slitta soprattutto in queste qua e quindi noi possiamo andare da avere un 37 da avere un 47 e poter utilizzare la stessa identica ciaspola ma quale ciaspola a comprare? allora bisogna partire dall'analisi della ciaspola a comprare in base al tipo di escursione che vogliamo fare il prezzo di una ciaspola di solito parte dai 100 euro in su esistono delle ciaspole che costano meno sono quelle di Decathlon ci ho già fatto la recensione e andate a guardarla per sapere dove utilizzarle però sono ciaspole diciamo un po' fine a se stesse il mercato cosa presenta? presenta delle ciaspole che di solito partono dai 100 ai 150 euro per delle ciaspole abbastanza basic qui ci sono tantissimi modelli di TSL che anche qua TSL fa il gamma 305-325 che in base anche a se sono il modello Elevation Rock initial e via dicendo cambia il prezzo cambia anche la tipologia di tecnologia che viene utilizzata sulla ciaspola però in generale di solito del ciaspole tra 100 e 150 euro io vi consiglio come dicevo i modelli TSL perché mi ci sono trovato veramente bene ho provato il modello 305-325 Elevation e erano veramente fatte bene per il prezzo in questa categoria e poi ci sono anche le Ferrino Baldass perché l'azienda più o meno è la stessa e qui possiamo trovare tipo queste LIS ci possono essere anche il Pinter ma queste ciaspole per che tipo di escursione sono consigliate? allora per delle escursioni dove possiamo avere anche diverse salite in senso 500-600 metri di livello non sono un problema però su sentieri abbastanza semplici quindi sentieri abbastanza larghi quindi niente traversi innanzitutto e diciamo sì diciamo escursioni per persone che non vanno a cercare una grande performance salendo iniziamo ad avere già delle ciaspole che possono costare 150-200 euro come modelli io ho qua queste 325 modello Rock che sono pensate appositamente per il mercato italiano ci sono le Castor Special di Ferrino ci sono tanti modelli che iniziano ad avere già una struttura diversa quindi magari iniziamo a trovare magari già un boa per andare a chiuderle iniziamo a trovare già una ramponatura più aggressiva iniziano ad avere magari anche una galleggiabilità migliore e queste possono andare bene innanzitutto per le escursioni che ha ben detto prima ma anche se avessimo avere magari un pochino di tratti in cui fare dei diagonali quindi dove abbiamo bisogno di stabilità anche nella ciaspola messa in obliquo escursioni dove magari possiamo avere anche dei tratti un pochino cattivi ecco, questo tipo di ciaspole sicuramente ci aiuteranno tanto infine ci sono ciaspole che costano 200 euro in su perché poi come sapete i prezzi al limite non c'è mai fine faccio un esempio queste TSL Sembio che ho provato l'anno scorso sono ciaspole molto particolari perché sono fatte anche con una parte in carbonio soprattutto si piegano e ci garantiscono un'ottima camminabilità però in generale quando troviamo questo tipo di ciaspole ci permettono di fare un po' tutto hanno un'ottima galleggiabilità una ramponatura decisamente forte dove se dovevano andare a fare dei traversi non avremo nessun tipo di problema di poter avere il piede che ci scivola a valle quindi sono ciaspole diciamo a tutto tondo cioè che qualsiasi cosa possiamo trovare all'interno di un'escursione in qualche modo ce la possiamo cavare in conclusione un piccola nota su come si conservano le ciaspole non hanno bisogno di una grandissima manutenzione semplicemente vanno pulite asciugate dalla neve che ci potremmo portare in eccesso sicuramente tenute in luoghi non troppo bagnati eccetera perché comunque hanno tante parti in ferro che si potrebbero arrugginire ma per il resto non hanno bisogno di una grandissima manutenzione cioè quando noi a febbraio le abbiamo pulite possiamo lasciarle lì fino a dicembre l'anno dopo quando le riprendiamo senza farci tanti problemi dato c'è ragazzi io nella speranza sia stato esauriente risostivo avervi dato degli ottimi consigli per potervi aiutare a comprare le vostre future ciaspole vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao